Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova Reaction, sono qui per fare Reaction a Dragon Ball Z Kakarot, altri trailer svelati per questo giocone, per arrivare console, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch? No, Nintendo Switch no, Xbox, PlayStation e PC, che dire? Bande recente, c'è anche le bande, sto registrando, sto registrando, via, un minuto, c'è, non voglio una parola, cavolo, bellissima, che stima, non vedo da che, non so se è già uscito o meno, Ma deve uscire sto gioco, è una bomba, c'è, non ho parole, guardate che grafica, che spettacolo, Se è l'essere perfetto, tu sei go, oh, ho un energetico a padre e figlio, è già finito, non dite, Che buffone, mi va troppo ridere, wow, qualche animazione, fermati, altre animazioni ragazzi, altre animazioni, è finito vero? Sì, è finito, è finito, è finito, è finito, niente ragazzi ho trovato altri trailer, altre poche, eccomi, eccomi tornato, eccomi tornato, vediamo, sto pensando, sto pensando, sì penso proprio di sì, forse è sbagliata, ragazzi, Ho fatto prima la variation che non dovevo, perché colorare è parte di sé, questo è divergente, mannaggia, vuol dire che mi tocca lavorare per tagliare, e che scatole, non mi interessa ragazzi, ve la beccate così, per favore, tanto è sempre lo stesso gioco, Sì, non ne ho voglia di editarlo, questo video, buffa, vabbè, vediamo, vediamo, se, se non mi va, ve lo beccate così, se non so cosa dirvi, tanto mi sto perdendo, queste scenari, queste scene, veramente fantastici, con gianco, Il sortire del lupo, l'onda energetica di, la carota, penso in colpa del sole, cos'era quella, così, che carino, un pagliacetto, devo dire che mi piace tantissimo, è molto particolare, come personaggio, È già finita, è già finita, mi vuole sapere, guarda, io mi sono perso in chiacchiere, no, non ancora, forduno, anche lo poco, lo scimione, ecco, è diventato uno scimione, wow, ma quando è arrivato Goku, scusate, quando è arrivato Goku, c'era Yanco, che era già cappò, non era vivo, nell'anima almeno, è veramente bello, mi piace un casino, Andare, scusate, scusate, caccarotte, caccarotte, goha, oddio, oh, ma, no, l'ho usata per pescare la sua cosa, eh, ah, anche qui, si mangia, sai come può, che non paga uno spade scuro, No, deve essere veramente bello, questo gioco, la tartaruga, la tartaruga, la tartaruga, di cosa, del genio delle tartarughe, ovviamente, Frisoro, si, anche i gondi, deve essere carino da usare come personaggio, Wow, ragazzi, bellissimi, ha seguito bene, Junior, che personaggio Junior, bellissima, dai, usa, canone, speciale, wow, ha fatto il divasto, vegeta, 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 me la ricordo, questa mosso, mamma mia, wow, quanta vita che l'ha tolto, Mmm, da, con bozzetta, caccarotte, Prima, 17, 20, ah, e c'era la prossima, Bene, voglio dire che ci sono ancora un po' di action, da qua, Niente, ragazzi, ci vediamo tra poco, perché io, ovviamente, quando ho le reaction, ne ho, ne ho un po', Quindi non ho un trailer, non ho due trailer, ma ne ho tre o quattro, barra cinque, non lo so, Questo è il secondo, tra poco, Eccomi, 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 è tornato, ma mi piace tantissimo, ragazzi, questa, ma questa qui c'è un foto? No, non le voglio le foto, uffa, Scusate, eh, Avanti, Ragazzi, ma cosa sta succedendo, c'è, ma mi stiamo prendendo in giro, Ma è tutta così sta cosa, No, mi piace, Dove la taglio, mi piace, ciao, Stoppati, Ma la te non si stoppa, Mamma, forse si è bloccata a me, sapete? Sì, si è bloccata a me, ragazzi, si è bloccata a me, Non so perché, ma si è bloccata a me, Ok, ragazzi, sono tornato, Mamma mia, per sbloccare il telefono, si è bloccato tutto il telefono, Riuscivo più bene davanti, ho dovuto anche tagliare, E stoppare il video, A quanto pare, sono tutte foto queste, ragazzi, Non ne vale la pena farvele vedere, no? Non è divertente, non mi piace, Ci vediamo tra poco, Speriamo sia un trailer, questo, Dovrebbe essere un trailer, sì, Sì, dovrebbe essere un trailer, questo, vediamo, Ma qui è un gioco, Mamma mia, ragazzi, Che delivio, Che delivio, Ma quanto pare questo qua è un gioco, Non è... Cavolo, Cavolo, c'è anche il singhiozzo, No, Sembra che deve entrare, Nuvola, Spide! Ops, Sembra che deve entrare, Fattemi sentire, Scusatemi, Se no tagge, Ecco, Sono caduta, Mamma mia, ragazzi, Ma che delivio, Che delivio, Devo fare un mega tagge, Che così non finisce, Mamma mia, ragazzi, Non avete idea, Che scatole, Uffa, Che palli, Dove l'ho arrivato? Scusatemi, Ma ci è successo un trambusto? Magari è anche divertente, Che ve lo lascia, Wow, Mi piace molto, Intanto, Sto registriando, Vedo che poi, La fine che non ha registrato, Nulla, Mi gira le balle, Dopo, Non mi convince, Non so perché, Mi è andrea, Non è tornato nuovamente, Ma questi qua, Sinceramente, Insegnano parte di gioco, Non più, Non più trailer, Quindi è sempre lo stesso, Cioè, Non so se ne vale la pena, Veramente, Fare vedere, Fare vedere, Oltre la stessa cosa, Vado un po' avanti, Io non l'abbiamo ancora visto, Però è parte di gioco, Cannone, Speciale, Ok, Niente ragazzi, Io qua, Direi che di chiudere, Anche perché, Quelle pezze di 3, Di prima l'ho tagliato, Perché è la tutta uguale, Quindi non ne vale la pena, Insomma, Abbiamo già, Abbiamo già visto parecchia roba, Oggi direi, Di Dragon Ball, Visto che questo gioco, Questo gioco esce, A gennaio, Che vedo, Sì che su, 17 gennaio, 2020, Genua e gennaio, Sì, Gennaio, 17 gennaio, 2020, E, Siamo in novembre, Perché, Vedrete questo, Di novembre, Quindi magari, In due mesi, Uscire ancora qualche trailer, Magari, Anche più su, Così, Non lo so, Anche perché, Ovviamente a forza, In tutte le cose, A forza di fare, Trae, 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 Poco a poco, Si sveglia tutto il gioco, Quindi, Quindi direi che, Per oggi, Possiamo chiudere qua, Poi la vado a editare, Tantissimo, Perché, E' una tutta l'auto di oggi, Vabbè, Niente, Io li sentite, Grazie per la visione, Sì, Se vi va a commentare, Ciao ragazzi, Ma niente ragazzi, Sono ancora, Io ho trovato un nuovo trailer, Quanto pare qua, E' Vegeta, Due a 5 minuti, Questo trailer, Farò vedere, Solo un pezzo, Non tutto, Tanto qua, Fa vedere, Come si svolge il gioco, Come si svolge il games, Devo dire, Che è veramente bella, Anche la grafica, E il testo, Un giro, Sangha venate, Comoda a muovere, Molto manualità, Sembra, Poi magari mi sbaglio, Questo è, E' Vegeta, Dovete riconosciuto tutti, Wow, Guardate che trovazze, Bellissimo, Ragazzi, Wow, Sangha venuta, Molto interessante, Qua c'è la mappa, Wow, Ah qui, C'è anche il livello, Per caso, Ah, Livello 63, C'è il livello, Quanto pare, Niente ragazzi, Volevo far vedere, Questo spezzone, No, Meglio che non, Vi faccia vedere tutto, Perché non so, Magari è anche un ragazzo, Che sta giocando, Io non lo so, Non mi sembra giusto, Fare questo, Ecco, Quindi io vi saluto, Vi ringrazio per le visioni, Vedo magari, Non so nemmeno, Se caricherò, Questa qua, Vabbè, Niente, Ciao ragazzi, Al prossimo video, E volete che si stoppi, Non manco per, Ehm, Ciao ragazzi, Ciao ragazzi, Ciao ragazzi, Ciao ragazzi, Grazie.